bella ragazzi sono jollyjoker siamo con fede ciao raga ormai l'avete visto tante volte ah devi mettere la partita facciamo le 3v3 anche se siamo in due perché mirko non è disponibile li ho già chiesto ma niente e facciamo comunque le 3v3 comunque perché gli andava voglia di fare le 3v3 ah fede sono platino 2 lui è diamante o platino 3 non lo so è da tanto che non giochiamo insieme comunque con il mio team intendo non giochiamo da tanto e da tanto che non faccio il 3v3 quindi speriamo di incontrare un compagno scarso eccoci ragazzi siamo con access shots shots che è fermo perfetto cominciamo benissimo questo è fuori si è mostro si è mostro eh l'ho sentito il tizio allora non sono andato mi spiace non ci credo e si comincia aspettate ragazzi che alzano il volume no non si aspettava che stessi fermo è al massimo ma è bassissimo tutte le calzate al volume perché veramente basso a posto risolto peccato questa palla è buona in mezzo appunto l'ho toccata male perché l'ho toccata male però sono iniziato a metterla in mezzo non volevo tirare perché sapeva di sbagliare se no voglio metterla in mezzo che battuta ha fatto quella dove salta e poi va col busto giusto un po' sì quella che ho visto bene sembra fa schifo quel tipo di battuta no comunque sembra bravino sembra ma non lo è tieni fede non ci sono andati la lisciata che cazzo stanno facendo no oddio oddio che parata no cosa è successo cioè guarda tiro traversa io la tolgo da lì e lui la mette dentro cosa è successo no problem cioè me la metto io l'avevo parata però lui l'ha toccata e ha segnato perfetto è un po' un casino è successo ma easy fake ma cosa fake e mi è mancato dai stai zitto no avevo fatto apposta come potevo prendere con zero di busto no seriamente era un fake calcolato non sto scherzando ok sì sì vabbè ci credo e tu non credeci ah ho visto la battuta che fa ma sì è quella che ti dicevo io ops è un fake è fake che devo dire no avevo dieci di busto fake dai sono serio ti credo ti credo mi vuolvi prendere? no 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 guarda come vado per il dunk no l'ha presa lui I don't have boost aia quando abbiamo subito ah sì perfetto eh niente bravo meno male che rimporsa ok l'ho buttata su bravo che l'ha presa non era facile da leggere mia vabbè ci hai rindato a te scusa c'è un'altra compagnia che ha appena preso boost l'ha tolta se vuoi ci sono sono in mezzo dai incrocio beh se vuoi boom liscio sì ma che tiravo fatto ah mi sembrava in porta però l'ho tolta comunque uff bravo eh non ci aspettavamo che rimanesse lì quindi noi non c'eravamo devi andare lui devi andare il mio compagno lì era più vicino va bene vai ripartiamo ripartiamo eh l'hai toccato che mi è confuso però l'ho tolta altizia e cosa faccio io qua io non ho boost da mille anni quindi eh neanche io prendio te l'ho lasciato bravo fede magari se ci hai capire in avanti era meglio che dici no è fuori 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 ci sono andato per meno male che poi non ho boostato guarda è bello no non sapevo come toccarla occhio che potrebbero tirare bravo che l'ho buttata qua vai questo è l'uomo eh resta dietro resta dietro se vuoi vabbè ormai sei lì ecco stai dietro ecco ti hanno aiutato pensavo se fossi dietro di me no tolta oddio questo è tolto sta andando a volare stava già volando tutta tua c no cosa la rimette in mezzo no problemi non è male nos che accompagna allora ha fatto un gol però ci ha fatto prendere un gol siamo a divisione 2 ancora non ho fatto cazzo vuole magari vuole fare party up che non abbiamo capito come si gioca fai party up party up non si accetta in caso vabbè non accetta in caso chi se ne frega alla seconda partita eccoci ragazzi nella seconda partita quello lì alla fine non l'ho citato siamo con un altro con taking non lo so si chiama tactic kill 123 non mi ispira tanto il nome nemmeno a me quasi palo no fede ah ok eh gg no no problem ah tu dici che hai sbagliato finta che cosa vuoi il nostro compagno non dava reb boost ma ovviamente non lo sapeva ma forse tu non devi salire là già a prescindere ho sbagliato ho sbagliato anche là il flip ah così mi lo dici si c'è c'era il mio compagno lo prova proprio lui parata il nostro compagno è stato scavalcato ci sono dall'altro lato tu la butti su ovviamente no che brutto tocco tutta tua che strano tocco no ho cercato di alzarla perché a tirare non mi ha fatto la capriola quindi ho cercato di alzarla il più possibile perché la presa me la stai passando vero si tolta mamma mia cosa ho tolto no l'ho ritoccata non hai calcolato gliel'hai stoppata gliel'hai no l'hai ritoccata tizzi di merda con la endo mi fa piacere a uno la endo veramente la bomba signori vede la porta libera e fa call io ho visto la porta libera ho detto iii start boom all'inizio era un po' veloce ma rallentata dove erano tutti eh uno era andato i due erano andati al boost uno però quello centrale uno quello in difesa e l'altro aiuta mi ha aiutato a fare quel tocco lì eh me l'ho sbagliato brava è colpa mia ma what the fuck cosa hanno sbagliato ma quanto sono allora io ho fatto un erroraccio ok dai non ho capito great pass nice shot fuori eh ma c'era lui quindi sono andato non ho boost deve andare te va il tiro oh percato percato cioè hanno preso questa e poi si hanno fatti un passaggio e un tiro ma ma vaffa oh dio bravo la sua compagna la risciata io ho dato solda anche no oh oh raga perché non ci siamo andati io mi aspettavo il tuo passaggio visto che avevi eh io l'ho asciuta lì apposta per te ah ecco ah io non avevo boost l'ho anche detto avrete un nuovo boost ah ci siamo confusi eh vabbè tutta tua vai no non ci sono arrivato me l'aspetto a più centrale niente vabbè fa niente non ne ha neanche fatto apposta quindi che tocca forte no mica ho pinciato ho pinciato dai vabbè quello l'ha lisciata e quindi non me l'ha aspettato io non ero andato precisamente per il tiro perché ho detto vabbè la prende è in vantaggio ci caccia tutto l'ha fatto cosa ho sbagliato ma che scarsi come l'ho fatto sbagliare quel tiro no ma ha fatto tutto il boost come non lo so tu hai sceso uno io la lascio che fai la butti una kill prendo il boost io scusami ma perché c'era già l'altro tizio avversario che sta venendo l'ho spinto signori cadendo senza volerlo perché non avevo la cam deve andarci lui deve andarci te bravo bro bel tiro ha guardato ma no c'ero io però non te l'ho chiamata vabbè io sto dietro un attimo perché è pericoloso eh ho sbagliato mi spiace fuori no cazzo ho sbagliato io sono andato troppo verso sinistra nessun problema ma sai perché ma perché io adesso ho messo anche la play in inglese quindi quando vedo take the shot mi confondo e penso tutta tua cioè mia non so perché oh bel tiro bel tiro ma ma bel passaggio mi ha fatto mi ha fatto un bel passaggio secondo me non neanche voleva fare secondo me voleva tipo tirare in porta però vabbè un bel passaggio vabbè vabbè great pass dove va lui ok va lo boost ci provo l'ho presa io eh lui non c'era arrivato il mio compagno quindi sono andato io oh il nostro compagno è comunque bravo cioè 0 gol tu 2 io 1 la tolgo sì noi abbiamo vinto perché sti qua aspetta vinto non abbiamo vinto non abbiamo decisamente vinto abbiamo vinto ma perché loro si sono mangiati 7 gol e ci hanno fatto fare un gol non è male questa è molto bravo molto bravo vabbè è bravo io sono 3 vabbè sai cosa ti dico noi in questa ti ricordo che siamo in vita e c'è la seconda partita questa quindi facciamo l'ultima partita facciamo durare il video un po' più lungo vabbè ragazzi ci vediamo la terza partita bella ragazzi siamo in partita e la terza partita questo qua dura un po' più del solito vai te hai detto quindi te la lascio qua deve andare Oteo il mio compagno bravo ce l'ho io no non ci credo sai cosa ho fatto ti giuro guardi no devi guardare guarda 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 non sai perché perché praticamente volevo fare la capriola poi ti ho visto già lì ho detto no no e avevo fatto il doppio salto mi sono confuso tantissimo mi sono confuso se avessi sbagliato mi sarei ucciso adesso ucciso no però ce l'ha lui il nostro compagno non lo so si sta comportando bene ah io pensavo rimanessi al centro vabbè ti ho visto troppo tardi non è che ha toccato il nostro compagno prego vai ci sta ci va lui è peccato che non c'eri ho già fatto ho già fatto tipo 3 kg in questa partita mi manco lo faccio apposta vado io vado io vado io vado io visto? sono forte sono ninja sono ninja infatti infatti l'ho tolta oddio cosa ho tolto e vabbè I don't have boost I have boost stanzionamento incredibile e lì c'è la palla così stanzionamento incredibile e lì c'è la palla mi ha fottuto il boost io ho lasciato il boost il mio compagno si sta scaricando il joystick che non è molto buono eh raga qua ho volato malissimo proprio perché non ho fatto nemmeno il doppio salto ma quello lì l'ho tolta va bene pince no cosa è successo? l'ho tolta meno male se no devi andare in post eh mi hanno fottuto freestyle bravo Fede io l'avrei sbagliata è shot ma di solito sbaglio pure è io però no ma queste qua sono le più difficili quelle di rebound mi chiedete una mina 94 km va lui su come ah su l'ho ucciso io oddio ma compagno no 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 lo volevo demolire bravo il nostro compagno il nostro compagno è bravo ecco l'hai detto l'hai detto l'hai detto l'ha vincita la palla eccolo mi hai fatto rire non vale sì lo so oddio mi ha feicato è tappalo mi ha feicato per poco che cosa hanno fatto fake ho buttato l'altra parte non volendolo vai via questo parcheggio è mio non nessuna vai dall'altra parte quel parcheggio è mio un po' spinto forse no volevo fare figo volevi infatti non hai fatto gol ma cosa sì l'ho gufata l'ho gufata l'ho gufata ci sono io in porta pincio cosa hai fatto signori mi hanno pinciato un po' lento tu hai fatto oddio close one eh ci ho provato ad andare a tancare perché mi hanno imbalzato troppo lontano penso che mi hanno imbalzato più vicino mezzo compagno ce la fai ce la fai ce la fai che diamo in te nel cuore se la dice finita dei laziali di mer da ti ricordi oddio oh mio dio wow close one ti ricordi eh adesso in realtà non posso dire invito dopo te lo dico ah ok non vuol dire questo eh non intendevo dire l'esplosione oddio c'ero anch'io in realtà eh prove guarda io avevo detto vabbè appena accompagno no ah hai scritto what a save sai che non me ne ero accorto l'ho scritto a casa perfetto adesso c'è un po' l'ho scritto a great pass great pass eeeh eeeh fai ma noia per poco e si alza si alza si alza si alza si è abbassato ma vabbè quindi sono piccoli ma grazie l'ho tolta no che è scarso easy 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 che fa anche le parti easy vota save vota save vota save gg ah ragazzi vi siete piaciuto come siete lasciate con mi piace siamo saliti divisi in tre non è male tre partite vinte e spero vi siete piaciuto come siete chiedendo mi piace ricordatevi andare a seguire sull'applicina instagram e niente bella ragazzi vi saluto anche Fed ovviamente con i suoi 422 punti bella ragazzi bella ragazzi